Si chiude questo mese la miniserie dedicata a Nick Rider, le nuove indagini, con L'uomo dai due volti. Ecco la copertina di Rosario Rao dell'ultimo numero. È un numero che si fonda su un colpo di scena piuttosto clamoroso e devo dire che è veramente difficile addentrarsi nell'analisi dell'albo senza guastare la sorpresa a chi legge. Quindi diciamo che occupandomi degli ultimi due numeri, io ho saltato il mese scorso proprio perché li volevo trattare insieme, occupandomi di questi due numeri farò più che altro un bilancio molto personale di quello che è stata questa miniserie. Miniserie che io ho molto apprezzato, anche se non altro, anche solo per l'idea di risuscitare Nick Rider, che sono contento di aver comprato e letto, perché comunque resta un personaggio Nick Rider a cui sono affezionato. Forse avrei voluto un maggior coraggio nella decostruzione del personaggio, che secondo me c'è stata, c'è stato un tentativo anche molto, diciamo che si annunciava come molto riuscito, questo poi dal mio punto di vista non era completamente a fuoco e si annunciava in questo Alba Digitale che raccontava un'indagine del 2010, i cui effetti poi si sarebbero riverberati nel nostro presente, o meglio nel presente della serie, che è il 2019. Quali sono i punti di forza della miniserie? Sono localizzati qui perché per il mio gusto personale rendere conto del passaggio del tempo, del cambiamento dei costumi, di un sentimento della vita che comunque si modifica, ecco, tutto questo rapportato a un personaggio, tutto sommato Coriaceo, sicuramente figlio di Tex Wheeler, Claudio Nizzi, l'ho anche detto, Claudio Nizzi il creatore di Nick Rider, che anche nel costruire la sua squadra lui aveva in qualche modo all'uso ai quattro Pard che formano appunto la squadra di Tex, ecco, tutto questo, diciamo, tutta questa precarietà dei tempi nuovi che piomba sulle spalle di questo personaggio, secondo me è molto interessante, così come molto interessante è anche la nuova squadra che è stata messa in campo, anzi io, devo dire, questo forse è il numero che mi è piaciuto di più, è un numero che mette, diciamo così, è un numero che si prefigge di raccontarci i propri personaggi della squadra, quindi Katrin e Lester, che sono un po' l'equivalente attuale di Marvin e Nick, Nick Rider ovviamente tenente, Paul, il figlio di Bauman della scientifica, Meg, e poi Manisha Terson, su cui tornerò, che forse è il personaggio più interessante. E ecco, diciamo, questi personaggi in questo numero, per esempio, sono stati raccontati benissimo, e quello che da lettore io forse avrei sognato, ma qui bisogna anche essere realisti, cioè perché io mi pongo la domanda, si può chiedere a un editore come Sergio Bonelli, agli sceneggiatori che lavorano per Sergio Bonelli, si può chiedere quello che sto per chiedere, cioè meno trama e più personaggi. Forse questa è una cosa che semplicemente non è possibile, insomma, quindi va un po' a cadere il mio discorso, però diciamo che io, in questi due numeri in particolare, la nuova squadra e Alba Digitale, avevo intravisto questa possibilità. In termini di racconto, Davide Rigamonti e Giovanni Ecker, che sono gli sceneggiatori che, prescindendo dal primo numero firmato dallo stesso Nizi, dicevo, Rigamonti e Ecker sono gli sceneggiatori che hanno scritto l'intera saga, secondo me loro sono stati attenti a ascoltare un po' l'aria del tempo, e insieme a questo tentativo di decostruzione del personaggio, lo hanno anche messo in relazione con alcune tendenze, diciamo, del contemporaneo, in particolare un villain che potrebbe richiamare alla mente, il villain di Sob, per certi versi, perché no, anche il Joker, descritto da Nolan nel Cavaliero Oscuro, cioè un personaggio sul fureo, solitario, ma capace di muovere pedine e di mettere i bastoni fra le ruote anche di un'istituzione come ramificata e complessa come la polizia. Senza peraltro, e qui va anche un po' un applauso a Rigamonti e Ecker, senza peraltro calcare i toni fino ad arrivare al grottesco, che sarebbe stato un attimo in una serie a fumetti, invece tutto sommato, anzi forse, si prodigano in una serie di spiegazioni informatiche, diciamo che se non rendono del tutto realistico l'operato di questo villain, però neanche lo fanno apparire come grottesco. E poi c'è un altro modello che forse viene adombrato e ci riporta all'origine del personaggio, è quello del nemico giurato dell'ottantasettesimo distretto, cioè il sordo, che come il cattivo che vediamo agire in questi due numeri, ha anche lui una malformazione fisica, che addirittura lo caratterizza fin dal nome, e poi ci riporta in quel territorio, cioè la serie dell'ottantasettesimo distretto di Ed McBain, che come sappiamo, per ammissione dello stesso Claudio Nizi, è in qualche modo l'ispirazione principe di Nick Rider. Venendo all'uomo dei due volti, che è stato sceneggiato da Giovanni Ecker, così Ecker si è occupato anche di una voce dal passato. Una voce dal passato è disegnato da Ivan Vitolo, e invece l'uomo dei due volti è disegnato da Rosario Rao, che quindi oltre a occuparsi della copertina, fa anche i disegni. Io, devo dire, da lettore mi sono innamorato del personaggio di Manisha Terson, al quale viene dedicata una splendida vignetta d'apertura. È veramente bellissima questa prospettiva zenitale, con il titolo della storia, i credits che sono relegati su un lato della vignetta, e poi insomma lei viene svegliata e lì parte la storia. È un incipit molto bello perché anche proprio per la struttura, per la costruzione stessa della vignetta che mi ho mostrato, mi ha ricordato gli incipit di tanti film polizieschi americani, e non solo. Cioè penso al, per esempio, vabbè, da un lato penso alla vestizione di Paul Newman in Detective Story, che inizia in una situazione proprio del genere, e gli titoli di testa scorrono proprio su lui che si alza, si prepara la colazione e si veste. Ma anche una cosa simile avviene in La pratica Ipcress, di Sidney J. Fury con Michael Caine, che interpreta la spia ideata da Landayton, in aperta, per certi versi in aperta polemica, al coevo James Bond. Ma questo non stupisce, insomma, diciamo così, la mole di riferimenti che abita una testata come Nick Ryder, e che è caratteristica comunque di tutto il mondo Bonelli. Io penso, ma potrei anche essere contraddetto, però la mia sensazione è quella che tra i membri nuovi della squadra, ripeto, personaggi tutti interessantissimi, la simpatia di Rigamonti ed Hecker, insomma dello staff creativo, va proprio a Manisha, Manisha Terson, questo personaggio di Hecker, che viene prelevata dal sottobosco criminale da Nick per mettere i suoi talenti a disposizione della polizia. È effettivamente un personaggio di rompente, un personaggio molto bello, a cui Hecker poi dedica anche un finale, una risoluzione finale di impatto. Così come d'impatto è una bellissima scena d'azione all'interno della metropolitana, che se vogliamo è uno anche dei luoghi tipici del poliziesco, pensiamo soltanto all'inseguimento del braccio violento della legge, di Friedkin, ed è una scena giocata molto molto bene, che fa sempre perno sull'insidiosa minaccia digitale e informatica rappresentata da questo villenne. L'ultima cosa, io quando nella mia disamina piuttosto appassionata di Alba Digitale numero 7, mi ero concentrato sulla esibita inadeguatezza di Nick Ryder ai nuovi tempi. All'interno di questi dieci numeri, che sono tutti fitti di rimande, diciamo anche nelle prime storie, quelle appunto racchiuse nel flashback, che le separa un po' come continuity dall'ultimo blocco di numeri, però insomma i riferimenti ci sono, diciamo, e alla fine ecco, col senno di poi mi viene da dire che questa miniserie ha un grande protagonista al di là di Nick Ryder, che è Jimmy Garnett, Jimmy Garnett del quale vediamo l'evoluzione, diciamo, l'evoluzione, un'evoluzione da quello che era un personaggio del tutto secondario, timido, con intenti quasi di umorismo, in qualche modo Jimmy nella vecchia serie era un personaggio che spezzava un po' che spezzava l'azione, che contrastava il macismo dei personaggi e svolgeva quella funzione di umoristica che almeno un tempo era assolutamente inevitabile nei fumetti bonelli. Qui c'è un'evoluzione, di fatto Jimmy Garnett, grazie ai suoi talenti informatici, diventa un personaggio centrale, quasi un leader, il cui operato è risolutivo proprio per i casi. Questa necessità di evoluzione, fino all'ultimo, è assolutamente necessaria, è assolutamente proprio di stringente necessità anche semplicemente per la trama e la prosdocetone, insomma, che chiude la serie, la riafferma questa necessità. quindi io direi che il personaggio di Jimmy è gestito molto bene e la forse, diciamo, meno a fuoco è Marvin, i cui fatti relativi, diciamo, alla sua fuoriuscita dalla polizia sono liquidati, devo dire, abbastanza in fretta e forse a me personalmente sarebbe piaciuto saperne qualcosa di più. così come sarebbe stato bello uno sconvolgimento ancora maggiore negli equilibri della squadra, penso al tenente Ryan che è un altro personaggio che forse poteva essere utilizzato, poteva essere più utilizzato, ecco, lo trovo un po' sottoutilizzato. mi rendo conto che questo video non contiene diciamo una recensione proprio in senso stretto, ecco, è più una serie di desiderata che ho posto lì, però forse ci sta, insomma, perché da, diciamo, da vecchio lettore di Nick Rider, quando un personaggio viene rimesso fuori le proprie attese, le proprie, è giusto anche anche dirle, ecco, molto semplicemente. Nel complesso, nel complesso, io penso che l'operazione comunque sia riuscita e lodevole, e sarebbe bello veramente leggere altre avventure della nuova squadra, perché, secondo me, l'impegno e la proprio la creatività messa nel creare questi personaggi merita veramente anche un po' che la loro vita continui, in particolare, dicevo, il personaggio di Manisha Therson mi sembra molto bello, mi sembra proprio foriero di 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 situazioni narrative, di occasioni narrative molto interessanti, e chissà, ma magari nel futuro anche in tema, magari qualche speciale, ecco, se non una nuova miniserie, ecco, potrebbe anche essere messo in cantiere, questo lo sapranno loro. E niente, questo è un po' il mio bilancio di Nick Rider e le nuove indagini. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.